Siamo con Fatnassi Belgacem, hai segnato a te la rete del 2-1 su perfetto assist di Iannolo, una vittoria incredibile perché è sofferta, addirittura in 9 nell'ultima parte di gara, quindi una vittoria che vale dopo. Sì, è stata una partita, abbiamo dimostrato carattere, la squadra, siamo stati veramente uniti e qua si vede la squadra, grazie anche agli innesti del nostro mago Iannolo abbiamo anche vinto grazie a lui. Tra l'altro sono 4 partite, 4 vittorie, siete primi in classifica da soli, ci sono veramente tante possibilità di poter vincere questo campionato. Sì, quest'anno speriamo di andare bene, comunque abbiamo iniziato bene, anche con un po' di difficoltà, comunque speriamo di continuare così, la squadra c'è e oggi si è vista veramente la squadra, lottando in 10 sin dal primo tempo. Grazie. Prego, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.